Ciao amici del bosco, oggi scopriamo l'agricoltura sintropica. Se ti viene qualche dubbio, che fai? Se mi viene qualche dubbio, io pianto alberi. Se mi vengono molti dubbi, pianto molti alberi. L'agricoltura sintropica è un sistema agricolo produttivo in un contesto forestale che nasce dalle antiche conoscenze delle popolazioni antive amazzoniche che viene poi ristrutturato e rimodernizzato dal ricercatore Ernest Goch. Stiamo tracciando la prima linea di riforestazione. Oggi lavoreremo su questa unica linea di circa 80 metri e sono tutti a lavoro con forca vanga e piccone. Sono felice perché questo è la fine del mio progetto, piantare alberi nel mio progetto permaculturale, quindi è quasi come un traguardo. Sappiamo quanto sia importante piantare alberi, ma non è così semplice far crescere un bosco. Con questo metodo si riesce a farlo con più possibilità di successo e più velocemente. E mentre gli alberi crescono, si possono coltivare ortaggi e raccogliere frutti. La nostra guida alla scoperta dell'agricoltura sintropica è Gennaro Cardone, che in questo modo ha riforestato un terreno desertificato in Portogallo. Ero sempre attratto dal conoscere principalmente le realtà rurali del centro sudamerica, di come vivevano le persone native di questa zona. Anima e coraggio, zaino in spalla e circa 13 anni fa iniziai questo mio percorso. Non avevo ancora tantissime esperienze per quanto riguardava tutta la parte agricola, forestale. A stento riuscivo a distinguere una pianta di insalata da un pomodoro. Quindi da lì, un po' alla volta, un po' alla volta, ho iniziato a imparare tantissimo, principalmente facendolo ogni giorno, continuamente. e questo per me è stato la più grossa fortuna. Questo terreno che ho comprato 11 anni fa era ridotto veramente a uno stato di erosione molto alta e soprattutto non avevo disponibilità d'acqua. Ho iniziato poi lentamente questo mio percorso di forestazione nel giro di 11 anni. In termine sintropico si intende appunto il principio di far convergere l'energia in modo efficiente e organizzato, che è appunto l'esatto opposto di entropia, che significa appunto dispersione. Ed è quello che purtroppo attualmente accade nell'agricoltura convenzionale, che c'è sempre questo grosso input, soprattutto esterno, di fertilizzanti organici, di sintesi e quant'altro, ma dopo un totto di tempo appunto viene subito disperso. Mentre nell'agricoltura sintropica noi cerchiamo di concentrare in modo efficiente e organizzato tutta l'energia in modo che non venga disperso. Per fortuna da Eva c'era una grande squadra. Abbiamo fatto tutto con attrezzi a mano, ma tranquilli. In questa fase si possono usare anche mezzi meccanici. Allora, la prima lavorazione che abbiamo effettuato qui, in questo terreno da Eva, abbiamo creato una sorta di ripuntatura non meccanica, ma fatta in modo manuale. Quindi abbiamo fatto una sorta di scasso, cercando di rompere appunto tutta la parte più argillosa che si trova in profondità, in modo che appunto le radici riescono in breve tempo ad andare in profondità. Quindi abbiamo fatto questa sorta di scasso lungo tutta la nostra linea di piantumazione. Dopo abbiamo aggiunto un po' di biochar e compost. La forca vanga va giù facilmente, nonostante sia un terreno argilloso andiamo velocissimo. Con una vanga apriamo il solco e iniziamo poi a piantumare tutte le varie piante in base alla stratificazione, alla successione ecologica e al ciclo di vita. Terra bellissima, nonostante sia argillosa, ha una buona struttura. Dai, sono contento. Abbiamo fatto una linea lunga 120-130 metri, in totale saranno circa 600 piantine. Avete capito bene? Abbiamo piantato tantissimi alberi, arbusti e cespugli, così vicini che a raccontarlo sembra una follia. Ma il segreto sta proprio qui. Le piante in compagnia crescono meglio che isolate. La collaborazione in natura premia. Abbiamo fatto la prima lavorazione con la forca vanga e abbiamo sminuzzato le zolle con il piccone. Adesso come si procede, Gennaro? Bella domanda. Adesso stiamo facendo una seconda operazione, quindi stiamo andando nuovamente a picconare, a fare una seconda picconatura, quindi un secondo scasso. Quasi terminato, dopodiché andremo a piantare in maniera molto rapida tutte le piante in base sempre alla stratificazione e alla successione ecologica. Il lavoro sarà molto molto più veloce. Vedi, si crea questa sorta di solco sotterraneo, in modo che quando piove c'è una maggiore infiltrazione d'acqua qui, le radici delle piante riescono a penetrare. Qui da Eva, in questo terreno, c'è pochissima disponibilità d'acqua, quindi anche tutta la progettazione è stata fatta principalmente tenendo conto di questo aspetto molto molto importante. La successione ecologica sul ruolo è estremamente importante, quindi soprattutto quando partiamo da un nuovo sistema forestale, quindi da un nuovo sesto di impianto, noi cerchiamo principalmente di ripetere quello che avviene in natura. Un bosco che nasce lo fa seguendo le successioni ecologiche. Le prime a crescere sono le erbe pioniere, sono piante annuali molto tenaci che avviano il processo di rigenerazione del suolo. Quando si è creata nuova fertilità si presentano le piante arbustive, come ginestra, cisto, rosmarino, rovi, salvia, lavanda. Per ultimi arrivano gli alberi. Il lungo processo viene accelerato, piantando contemporaneamente le piante di tutte le successioni. Ah, c'è il robinio, adesso riempiamo prima la placenta 2 che si trovano esattamente al centro tra i due alberi, giusto? In totale ne vanno tre, quindi sono una, due e tre. Adesso iniziamo a mettere quelle le centrali per prima, quindi è un rovo con spine, un fico d'India, un rovo senza spine. Questo e questo al centro, correggetemi se sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Sto cercando le postazioni della salvia. Sto mettendo la salvia, è una pianta secondaria di tipo 1, quindi crescerà fino a quando non avrà alberi più alti che le faranno ombra, ne mettiamo un bel po'. Un melograno, tre metri, un corbezzolo. Di nuovo, tre metri, un prugnolo, tre metri, un melograno, tre metri, un corbezzolo. Un corbezzolo, due, tre, quattro, cinque e sei. Ernest Gauch ha individuato tre fasi nella successione ecologica. La fase di colonizzazione, quella di accumulo e la fase dell'abbondanza. Ciascuna è caratterizzata da piante diverse. All'inizio prevalgono le erbacee, chiamate piante placenta, poi le secondarie 1 e 2, distinte in base alla durata del loro ciclo di vita. Nella fase dell'abbondanza raggiungono il loro massimo sviluppo le piante climax, quelle che costituiscono la nostra foresta e che avevamo deciso fin dall'inizio. La progettazione viene effettuata in quattro dimensioni, che sono la lunghezza, la larghezza, l'altezza e l'aspetto più importante è il tempo. Noi lavoriamo ad altissima densità con un grossissimo numero di piante. Noi dobbiamo capire, sapere e conoscere qual è il ciclo di ogni pianta, in modo da riuscire a entrare in questo meccanismo, in questa sincronizzazione perfetta, in modo che quanto la pianta sta raggiungendo il suo picco massimo di produttività e lentamente sta entrando nella sua fase decadente, quindi in senescenza, questo è il momento molto importante in cui la nostra pianta deve uscire dal nostro sistema e dar spazio a una nuova pianta in modo da continuare la successione naturale. Per accelerare la successione, le piante sono gestite in modo da fornire supporto alla crescita degli alberi climax. Allora, c'è una parola che è utilizzata tantissimo in questi giorni, che è disturbo, disturbare le piante. Cosa si intende? Cos'è questo disturbo che va sempre apportato al sistema? Sì, se noi osserviamo sempre facendo riferimento alla natura, il disturbo in natura viene effettuato in diversi modi, quindi come vengono disturbate le piante dagli agenti atmosferici, quindi quando arriva una forte tempesta, un forte uragano, quindi vediamo che tantissimi rami si spezzano, cadono, quindi inizia ad accumularsi una maggiore quantità di materia organica sul suolo, o anche l'intervento e la relazione di ogni singolo essere vivente che vive in questo pianeta, quindi dai microrganismi, dagli insetti, fino ad arrivare ai mammiferi di taglia grande, dagli animali, ma anche l'essere umano svolge un ruolo estremamente importante. Quindi noi abbiamo questa chiave fondamentale che possiamo accelerare velocemente tutta la successione ecologica creando nel momento esatto azioni di disturbo in modo da accelerare e rilasciare una grossa quantità all'interno del terreno di zuccheri e aminoacidi, rendendoli subito disponibili a tutti i microrganismi che vivono nel terreno. Quindi principalmente le azioni di disturbo dette in modo più semplice le effettuiamo tramite le potature, quindi potando ogni pianta nel momento opportuno, siamo in grado di rilasciare questa grossa quantità di essudati radicali e in questo esatto momento tutto il nostro sistema avrà un nuovo slancio vegetativo, quindi vedremo improvvisamente questo nuovo boost vegetativo in cui le piante effettueranno e continueranno a fare nuova fotosintesi. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei, chi c'è, filiacio? No, rovere, qua, rovere, rovere, non roverella, rovere, rovere. Abbiamo sistemato tutte le piantine, adesso togliamo i vasetti e le interriamo perfettamente. Dopodiché non abbiamo finito, dobbiamo ancora seminare la placenta, ovvero le piante annuali. Dai, uno che aiuta a spingere la terra, uno che mantiene, questo sì, almeno lasciare un palmo di mano. Poi abbiamo trapiantato tutte le piante arboree, quindi tutte le piante da supporto con un ciclo di vita già più lungo. Abbiamo poi ricoperto il tutto. La mente è come un paracadute, se non si apre... Guardate la linea, abbiamo finito la prima parte di agroforestazione, una bellissima linea, dopo la vediamo nel dettaglio. C'è una piantina ogni 20 centimetri circa. In agricoltura sintropica queste sono le quantità che veramente aiutano le piante a crescere e a creare un sistema forestale in tempi brevi. Noi dobbiamo cercare subito di piantare sin dall'inizio a una densità molto molto alta, in modo che ci sia subito una colonizzazione molto veloce e rapida di tutto l'apparato radicale di piante che andranno a lavorare il suolo in diverse profondità. E un secondo aspetto appunto è cercare di effettuare azioni di disturbo nel momento opportuno. In pratica non daremo pace a tutte queste piantine, taglieremo le erbacee prima che vadano a seme e poteremo spesso gli alberi di supporto per aumentare la materia organica a terra e per stimolare la produzione di essudati radicali. Non disturberemo invece gli alberi più longevi che prospereranno nella fase dell'abbondanza. Quindi immaginate che dopo 6-7 anni decido che voglio iniziare a cambiare il mio focus e a produrre frutta. Quindi ok, il corbezzolo e il prugnolo hanno attacchito bene, cosa posso fare per dargli lo spazio necessario? Questo qui il melograno andrà via, così il distanziamento aumenta a 4 metri. Questo progetto di riforestazione lo stiamo facendo a casa di Eva. Oggi abbiamo piantato una maria di alberi con un sistema secondo me molto innovativo. Quindi si fa una piantumazione densissima tenendo conto delle altezze dei vari alberi per poi dover intervenire con dei disturbi per far cadere della biomassa che poi creerà altra sostanza organica e libera la luce per gli alberi che sono più piccoli. Spero con questo sistema di poter lavorare senza irrigazione. Stiamo seminando, questo è un momento molto importante. Tanto, 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 tanto favino, fave e favino. Poi mettiamo l'aglio. Dopo aver terminato tutto i trapianti delle piante arbore, e aver seminato le nostre piante annuali da supporto che sono fave, favino e trifoglio, noi abbiamo creato questa sorta di protezione di nido in modo appunto di concentrare tutta l'energia in modo efficiente, in modo da creare una sorta di imbuto, soprattutto anche per concentrare anche tutta l'acqua nel momento invernale, che è il momento appunto più importante di accumulo di acqua e di energia. Quindi questa crea una sorta di protezione, di ulteriore aiuto alle nostre piante, quindi le andrà a proteggere dal vento, dal freddo. Stiamo creando dei cumuli di materia organica, fuotature ma anche vecchia paglia, per proteggere tutte le piantine. Abbiamo creato anche una barriera fisica che manterrà più caldo, nel frattempo rilascia materia organica. Sono molto molto contento e soprattutto di osservare cosa accadrà nei prossimi mesi, quando appunto le piante della prima successione ecologica andranno a crescere, a colonizzare velocemente questa linea lunga 120-150 metri. Sì, il mio obiettivo è questo, di lanciare il seme e vedere quante persone poi riusciranno a fare... Ha un impatto veramente imponente, quindi io cercherò di sfruttarlo in ogni suo minimo dettaglio. E quindi assolutamente è possibile anche sin da subito riuscire anche nella fase iniziale, nell'anno zero diciamo, iniziare subito anche una produzione ad altissima densità anche di orticole. Ultima balla per chiudere qua, siamo arrivati in fondo. Stanchi ma molto felici! La cosa bellissima è che in una linea di forestazione possiamo inserire anche piante orticole. Alcune faranno da placenta nutritiva, altre costituiranno il nostro raccolto. Io continuo a imparare tantissimo ogni giorno. Un'altra cosa che io consiglio tanto è di osservare ogni giorno, continuamente, ogni piccola micro interazione. Adesso vedo che qui stanno arrivando le formiche, quindi io devo subito capire il perché stanno arrivando le formiche e devo cercare subito di intervenire per ridurre gli errori che fa parte. Ognuno li deve commettere. Solo commettendo errori io riuscirò poi a migliorarmi sempre di più, grazie soprattutto per l'osservazione. Quindi il mio più grosso bagaglio di esperienze in questi anni è stato principalmente l'osservazione continua in pieno campo. Con questo metodo si può riforestare e fare ortaggi anche senza acqua. Curiosi di cominciare, il primo passo è la riproduzione delle piantine, che vi consiglio di fare in proprio il più possibile perché ve ne serviranno tantissime. Se vi è piaciuto pollice in su e scrivete Gennaro nei commenti se volete altri approfondimenti su questo metodo. Grazie a tutti.